Aspire Feedlink con RevoKit queste resistenze sembrano davvero molto interessanti andiamo a scoprirle meglio e allora ragazzi partiamo subito con l'unboxing del Aspire Feedlink RevoKit in alto troviamo subito il contenuto del pacchetto ovvero la Feedlink Mod il Tank di ricambio per il Revo due resistenze da 0,10 e 0,14 il vetro di ricambio come ho detto già prima le 11 O-ring per la sostituzione in ricambio per l'atomizzatore la carta di garanzia e il manuale di utilizzo quindi manuale utente nel retro del pacchetto invece troviamo tutto ciò che descrive il prodotto con classica seriale batch l'importazione lo sketch in check per l'originalità del prodotto e le varie avvertenze come maggiore di 18 anni donna in gravidanza marchio smaltimento marchio CE eccetera eccoci all'unboxing Aspire Feedlink questa è la box sembra il calcio di una pistola davvero molto graziosa il peso c'è ci sta tutto perché è molto molto dura molto molto compatta come box questa è la tazza con il relativo ring per far grip sull'atomizzatore non farlo attaccare in maniera saldata davvero molto molto bella questo è il tasto non so se si riesce a mettere bene a fuoco è un tasto davvero molto ben fatto adesso prima di andare a guardarla bene andremo a vedere cosa c'è all'interno del pacchetto le 11 ring di ricambio il manuale per la Aspire Feedlink RevoKit la classica avvertenza per l'utilizzo corretto delle batterie quindi non batterie sbrappate non batterie sbucciate ma batterie sane in maniera uniforme ed infine troviamo l'acqua di ricambio il vetrino di ricambio e questo qui è il Revo atomizzatore da 2 ml di capacità ma vi ricordo che nella Aspire Feedlink abbiamo anche il boccino per lo squong che se non vado errato siamo a 7 ml di boccino questo è l'atomizzatore scritta Revo Boost marchio CE smaltimento Aspire pin placcato in ottone forato in questo caso nella parte alta la troviamo questa o-ring metallica che ci permette di aprire e chiudere l'aria in 3 punti diversi questo è il drip tip proprietato dell'atomizzatore quindi non si può andare a mettere un altro drip tip andiamo a svitare la parte superiore dell'atomizzatore e troviamo una piccola ghieretta che ci permetterà di fissare bene la resistenza all'atomizzatore questa è un'innovazione un'innovazione uscita un po' di tempo fa ma comunque volevo recensire perché era una cosa molto graziosa da vedere una resistenza a disco quindi una resistenza a piattello per togliere la resistenza bisogna semplicemente andare a togliere questa rotellina di qui ed estrarre la resistenza in questa maniera dal basso troviamo il cotone che permetterà l'afflusso di liquido anche dal basso verso la resistenza vedete queste scanalature che ci sono questa qui è la resistenza reale vediamo se riesco a mettere bene a fuoco invece questa qui sarà la parte del tank da 2 ml quindi andiamo a rimontare tutto vado a piazzare la resistenza vado a mettere la rotellina per fermare la resistenza in maniera classica e vado a richiudere ovviamente questo rumore è perché l'atomizzatore io l'ho utilizzato tempo addietro ma l'ho lasciato un po' fermo e quindi fa un po' di grip ritornando un attimo alla box come abbiamo detto prima questa è la spire ne fanno varie colorazioni tra i quali nero blu e metallico quindi un acceo metallizzato la tazza è da 25 di diametro in basso noi troviamo due ghierette quella a destra serve per far entrare la batteria se fate attenzione trovate anche sotto la ghiera il simbolo meno per indicarci che la batteria va messa nella parte del meno all'interno abbiamo anche un pin flottante placato sempre in ottone andiamo ad inserire la batteria quindi col polo positivo verso l'atomizzatore e il negativo verso il basso andiamo con la ghiera a chiudere dopo aver chiuso la batteria andrà imbattuta vi ricordo che comunque ci sono anche i fori questi qui sarebbero anche come dei fori di sfiato dall'altra parte troviamo una piccola ghiera per estrarre la boccetta adesso come facciamo ad estrarre la boccetta ci basta semplicemente svitare di mezzo giro verso sinistra e uscirà tutta la boccetta con il suo pezzo di tenuta questa di qui è la boccetta da 7 ml di liquido ed è stata progettata in maniera molto molto bene per quale motivo perché quando andavamo prima con le vecchie boccette classiche a tenere ferma la parte e a svitare la parte superiore per fare i refill premiava un po' troppo e il liquido usciva da tutte le parti in questo caso a noi ci basta semplicemente tenere questa parte di qui metallica svitare e tirare fuori un'asticina di metallo e ricaricare la boccetta di liquido in maniera più classica possibile questa asticina metallica va tenuta in considerazione poiché se noi andiamo a sconcare troppo o con troppa violenza potremmo storcerla in questa maniera e potremmo provocare la fuoriuscita di liquido oppure la salita di sola aria in modo da non far riempire più la vasca dell'atomizzatore quindi dobbiamo andarci con cautela adesso io andrò ad utilizzare un liquido fruttato il casino dei Fabulous Las Vegas di Super Flavor quindi cosa vado a fare vado a prendere la boccetta classica per lo squonk vado ad aprirla e vado ad inserire il liquido dentro la boccetta dopo aver riempito la boccia del liquido mi basta semplicemente andare a chiudere ad inserire ad inserire la boccetta all'interno della box dare il mezzo giro verso destra e il tutto sarà pronto per fare lo squonk vi faccio vedere come stessa cosa andremo a fare per l'atomizzatore andiamo ad aprire la parte superiore dell'atomizzatore andiamo possibilmente a bagnare bene la resistenza con un po' di liquido in questa maniera e teniamo che si assorba ripetiamo l'operazione almeno una seconda volta rimontiamo l'atomizzatore e facciamo la prova di squonk in maniera da poter vedere il liquido che salirà all'interno della boccetta avendo effettuato varie squoncate il tank si è riempito di liquido quindi adesso con 1,2,3,4,5 click noi andiamo ad accendere la box avremo due led con batteria superiore a 3,8 volts il led sarà solamente blu con batteria tra il 3,5 e il 3,8 volts la batteria il led di batteria sarà rosso o arancione e blu sotto i 3,5 volts la batteria ci indicherà che scarica solamente illuminando il led rosso in questo caso la batteria è sopra i 3,8 volts facciamo un paio di prove di attivazione in maniera da ruotare bene il cotone abbiamo avvitato il cap superiore e la box è pronta a spy feed link pronta per essere recensita quindi adesso andiamo alla prova di svapo e alle considerazioni finali beh c'è da dire che in mano si tiene che è una bellezza è una box fatta davvero molto molto bene in questo caso spyro non ha sbagliato un colpo è una box fatta molto bene ha una giusta erogazione non è un vapore molto caldo ma nemmeno troppo freddo le resistenze si comportano davvero molto bene hanno un'erogazione davvero molto lineare la batteria tiene davvero molto bene ovviamente penso che con queste resistenze non vadano usati liquidi troppo fruttati o troppo dolci penso che vadano utilizzati liquidi a base cremosa quindi qualcosa con crema pasticcera qualcosa al cioccolato qualcosa con creme varie dei liquidi troppo fruttati secondo me potrebbero perdere c'è da dire che comunque una box fatta in questa maniera è davvero una delle cose che mi mancava posso essere sincero e corretto dicendo che se vi chiedete come faccia il liquido dal tank a salire nella resistenza nel momento in cui noi andiamo a svapare questa resistenza così a piatto andrà ad assorbire in maniera obliqua il liquido e lo andrà ad uniformare in tutta la resistenza stessa in maniera da darci modo di utilizzarla al meglio una delle cose interessanti è che anche se noi la mettiamo sotto sopra la resistenza farà da tappo e non farà perdere l'atomizzatore quindi non lo farà gocciolare vapore ne fa tanto il vapore è molto umido è molto cremoso e una cosa che mi va di dire è che la box intera con tutto l'atomizzatore ha un prezzo che penso proprio stia sotto 60 euro sono semplicemente soddisfatto di questo prodotto della casa Spire e voglio dare un voto personale io voglio dare un 9 un 9 per quale motivo perché è una box fatta molto bene ma questa sticina metallica che c'è all'interno potrebbe provocare problemi se noi andiamo a sconcare potremo andarla a toccarla a farla spostare dal suo baricentro e al posto di far salire liquido nell'atomizzatore potremo far salire solamente aria quindi questa è una cosa che loro potrebano guardare un pochino meglio in questo caso però tutto sommato una box davvero molto graziosa che si comporta in maniera molto bene lo stile e l'eleganza questo qui non ho nulla da dire perché è davvero fatta davvero molto molto bene per cui se il video vi è piaciuto vi prego di lasciare un like al video stesso di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per le notifiche in maniera da poterci aggiornare sulle prossime recensioni perché sono in programma più recensioni ragazzi dal recensore dello svapo è tutto ci vediamo alla prossima e con l'ultima svapata ci salutiamo ciao ragazzi ci vediamo alla prossima Ciao